Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come ogni venerdì, ci ritroviamo nell'andare a analizzare quelli che sono i giocatori usciti con la promo dei Future Stars, stavolta Team 2. Tanti bei giocatori, probabilmente anche meglio del Team 1, secondo me, ad una prima occhiata rapida. Quindi ce li andiamo a guardare tutti quanti, in più andiamo a dare un bello sguardo anche al nuovo Season Pass con i giocatori da poter sbloccare al quindicesimo e al trentesimo livello. Quindi mettetevi comodi perché, come al solito, sarà un video abbastanza lunghetto. Quindi passiamo subito, senza perderci in chiacchiere, sulla schermata di Footbin dove ci attende il primo giocatore, che è probabilmente anche il più devastante, di fatti è Ansufati in questa versione da ATT. Veramente una bella carta che va a colmare già quella che ha una lacuna bella grossa per quanto riguarda la Liga, dove appunto non è che c'erano questi gran giocatori da poter utilizzare da punta. Questo qua è molto molto interessante perché è 4-4, è 1,78, quindi quasi 1,80, ha un body type di quelli piccolini e agili, quindi si gira molto bene. Diciamo una sorta di big header, va, se lo vogliamo interpretare così da punta, anche se non ha il 5 piede debole, ma è una saetta per quanto riguarda la velocità. Finalizzazione 95, potenza tiro 85, buoni, 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 buoni passaggi sia il corto che il lungo. Ho tantissima roba l'agilità come vi avevo detto, 99 addirittura, 96 l'equilibrio, 89 di reattività, 88 la stamina, poca forza, quindi non va a incidere sulla sua agilità, non lo appesantisce. Questo è veramente un bel giocatore, può fare la punta, può fare all'occorrenza anche il C.O.C. perché si muove bene tra le linee e c'ha buoni passaggi. Può fare l'esterno, promosso a pieni voti Ansufati che però io credo andrà a costare veramente l'ira di Dio, quindi sicuramente da aspettare un attimino che il prezzo sia a sesti, anche se comunque secondo me rimarrà molto alto perché è straifato come giocatore. Prossima carta che ci aspetta è quella di Giovanni Reina che è uscito nella versione da esterno. Io qui ho selezionato per errore la versione da C.O.C. perché Footbin era un po' intasato, quindi ci andiamo a guardare subito la versione, eccola qui, da esterno e sostanzialmente cambia poco da quello che ci siamo detti rispetto a quanto riguarda la versione C.O.C. perché come potete vedere dal confronto questa qui è un pochino più agile ma insomma il problema persiste. Persiste perché è un metro e ottantacinque con un body type high get average e in più gli hanno boostato la forza che arriva a 85. Quindi viene appesantito e il discorso è sempre questo. Sicuramente questo qua è un ottimo esterno, può fare tranquillamente l'esterno, non lo andrei ad impiegare in altri reparti per via di questa pesantezza. Quindi promosso però con riserva perché o esterno destro o esterno sinistro non lo utilizzerei né da punta né da C.O.C. Il buon Giovanni Reina. Un'altra carta molto simpatica è il buon Saka perché come Vansufati va a colmare la moria che vi è negli attaccanti della Liga, Saka va a colmare quella che è la problematica degli esterni destri di Premier League. Di fatti parliamo di un giocatore inglese che linka perfettamente con un Walker, per esempio, che è 4-4, che è 1,78 m e ha un body type lean, quindi smilzo, secco, velocissimo, potenza tiro 90 e finalizzazione 86, passaggi al top, agilità non ve lo dico neanche, aggressività in questo caso 80 ma con la forza che rimane sempre bassa, questo qua è veramente un bel giocatore. Come piace a me che si speedboosta con l'L1, che prende quindi molta molta velocità dove quello scatto lì, finalizza bene, si può anche provare da seconda punta, si può anche utilizzare da COC visti i passaggi e vista l'agilità, anche questo qui io temo che costerà veramente tanto, ma è il migliore esterno destro di Premier League No Cup e probabilmente anche uno dei migliori esterni destri al momento del gioco, visto i link che vi permette di poter andare a impiegare. Successivamente abbiamo il buon Tapsoba, un ulteriore difensore per quanto riguarda la Bundesliga, un metro e 92, quindi bello massiccio, veloce, con 82 di accelerazione e 87 di velocità scatto, ottimi i passaggi, veramente tanta 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 roba, 86 di reattività è anche un parametro molto interessante per un giocatore del genere, statistiche difensive al top, aggressività 91 e forza 88 lo rendono veramente qualcosa di devastante. Diciamo che in una classifica attuale dei difensori per quanto riguarda la Bundesliga, piazzo ancora Clostermann davanti, però questo qua si va a piazzare assolutamente in seconda posizione, per me anche davanti al buon Boateng o che sia il buon Upamecano, visto che questo qua c'ha anche 83 di stamina, quindi un bel giocatore. La peculiarità secondo me di questa carta sono anche dei buoni passaggi, che è cosa rara per un DC e sappiamo quanto quest'anno si facciano cose esotiche, con i filtranti anche dalla nostra metà campo, quindi tanta roba il buon Tapsoba, promosso da vedere un attimino il prezzo. A seguire abbiamo il buon Ruben Dias, che attualmente vedo sul mercato al prezzo di un milione è un prezzo totalmente senza senso, perché parliamo di un giocatore sì che sulla carta non sembra male, ma 76 di velocità per me già dice tutto ragazzi, lento, statistiche difensive che sono sicuramente lodevoli, 97 di aggressività e tanta roba, 85 di forza anche, ma come vi ho spiegato più volte, per quella che è la mia interpretazione, in questo meta basato sui filtranti, una carta del genere soffre troppo, gli preferisco, vi giuro, Gomez base. In Premier League ci sono tanti tanti di quei difensori che sto Ruben Dias veramente da, insomma, solamente consegnare ai posteri e basta. Florian Neuhaus, un giocatore anche qui per quanto riguarda la Bundesliga, un centrocampista, 3 di skill e 4 di piede debole, un metro e 83, accelerazione 88 e velocità 73, rendono col parametro 80 velocità totalmente fake, perché accelerazione riguarda solo il primo scatto, poi sul lungo conta la velocità e questo in velocità non recupera nessuno. Ottimi passaggi, veramente tanta roba, è anche bello agile, devo dire la verità, l'80 un po' lo appesantisce, ma è alto comunque, 1,83, quindi già che non era questa grande agilità, però in mezzo al campo conta che si muova bene con l'L2, e quindi l'88 di reattività sicuramente fa tanto. Si va a inserire in quella che è la categoria un po' di quei giocatori di Bundes che non sono male, ma onestamente, viste le alternative, magari gli vado a preferire comunque uno Zaccaria o un Goretzka, ecco che magari sono anche più massicci in campo. A seguire abbiamo il buon Anthony, Mataus, Mateus, Dos Santos da Silva, che sembra più il nome di un cantante neomelodico, però 4 di skill, 3 di piede debole, insomma già inizia a parlare abbastanza per lui, 1,72, velocissimo, perché è veloce, 82 di finalizzazione, 81 di potenza tiro, sono un pochino me, passaggio corto, tanta roba, è lungo, puzza parecchio, parametri di agilità spettacolari, spettacolari, sicuramente è un giocatore che si gira e si rigira su se stesso compatibilmente al body type average, quindi medio, discreto, forza che non lo vado a pesantire visto che ha 62, però, insomma, è una carta che è dell'aere divise, sì, brasiliano, ma al massimo può fare l'esterno, ecco il C.O.C. sicuramente no col 3 piede debole, né tanto meno punta o seconda punta. È uscita anche un'altra versione del buon Rhys James, in questo caso da mediano, mediano, se Footbeam me la fa selezionare, è iniziato il caricamento, vabbè, e c'è questa versione qui, eccolo qua, 80 di velocità, che però è un 78 di accelerazione, 81 di velocità scatto, potenza tiro 96, che è un parametro fuori dal comune, per bustare quel tiro che altrimenti sarebbe stato molto più basso, passaggi veramente tanta roba, agilità 82, un po' mi perplime, rispetto al fatto che vi dicevo di rapidità con l'L2, statistiche difensive che sono tanta roba, così come aggressività e stamina lo sono allo stesso modo. Tuttavia, se vi dovessi dire la mia, per quanto riguarda la Premier, a centrocampo abbiamo il sempreverde Kanté, che costa molto meno al momento, e che costerà sicuramente meno, quindi tra di loro vado sempre a scegliere Kanté, e di James continuerò sempre a preferire questa versione qua, che si può anche andare a spostare tranquillamente da difensore centrale, perché è veramente un toro, quindi direi questo qui bocciato. Per quanto riguarda poi la Serie A tanto invocata, abbiamo il buon bastoni, 1,90 m di difensore, con 76 di accelerazione, 84 di velocità scatto, quindi magari sul primo passo cede, però poi sull'allungo complice anche le lunghe leve, sicuramente recupera. Passaggi che sono discreti, anche la reattività non è male, quello che impressionano sono sicuramente le statistiche difensive, e la forza e l'aggressività. Vi dico, in una classifica dei difensori di Serie A, io lo colloco forse tra la terza e la quarta posizione, perché al primo posto colloco il buon Theo Hernandez, quello dell'Europa League, poi ci metto Koulibaly, poi probabilmente metto lui e dopo Manolas, quindi anche se in termini di rapporto qualità-prezzo, è probabile che anche se la vado a giocare con Manolas, quindi diciamo che va a porsi tra quelle posizioni. Però è chiaro che qualora si debba sculare, con tutti questi pacchetti che ci stanno dando da sbloccare, si può tranquillamente utilizzare, bel giocatore con ombra, stile intesa consigliato. Abbiamo poi Estupignan, devo dire la verità, bel terzino, bel terzino, secondo me in Liga si va a imporre in maniera abbastanza prepotente, peccato, peccato, solamente un pelino la forza, un pelino l'aggressività, però è veloce e veloce, statistiche difensive ce le ha buone, peccato un pelo in più di mentalità difensiva l'avrebbe aiutato nelle diagonali, statistiche di dribbling tanta roba, quindi agilità eccetera eccetera, molto molto agile, forza anche 84, questo devo dire è un bel terzino, si va sicuramente a collocare al di sopra di men di base, che ormai si è fatto un po' antico, anche se si continua anche a utilizzare tranquillamente, non mi piace Giordialba, quindi si mette sicuramente davanti a Giordialba, e anche davanti a quel Torreira Freeze, perché è un po' lentino, è un po' bassino, quindi stile intesa per lui ancora, e sicuramente lui è un bel giocatorino, se si riesce a allencare, peccato la nazionalità ovviamente. Abbiamo poi il Jonathan David, che è uscito a tutti nel pacchetto della Party Bag, 3 di skill e 5 di piedi debole, quindi penso che abbiamo detto già abbastanza, oltre che è del campionato francese, lui è canadese, quindi abbastanza inutilizzabile, per carità, veloce e veloce, finalizzazione manco così male, potenza tiro 85, agilità 88, super fake, visto che ha anche 83 di forza, una carta, anche qui, che non utilizzerei sicuramente da punta, se proprio gli dovessi trovare un uso, si potrebbe provare ad andare a collocare, nella posizione di esterno. Poi abbiamo il buon Diego Lainez, anche qui, in questo caso, esterno sinistro, per quanto riguarda la liga, un 4 di skill e un 3 di piedi debole, quindi un pochino a me, un 1,68, quindi molto piccolino, molto veloce, statistiche di tiro discrete, passaggi fatti bene, super agile, ovviamente, non ve lo sto manco a dire, 1,68 con body type, short e lean, vuol dire che questo è una furia, si gira su se stesso come il Beyblade, stamina 84, insomma, questo l'esterno magari si potrebbe usare, sapete quanto a me il 3 piedi debole non piace, però, se magari ve lo ritrovate, si potrebbe anche provare a utilizzare da esterno, tuttavia, al momento, secondo me, è dietro persino dembele base, ecco, che comunque è un giocatore più, più completo. Abbiamo poi questo Oscar, Rodriguez Amaitz, che è un 3-3, che parte nella posizione di C.O.C., questo qua, più che C.O.C., onestamente, se proprio lo volete utilizzare, che ve lo ritrovate tra le mani, ve lo potete provare a inventare C.C., anche se le statistiche difensive, insomma, non sono proprio eclatanti, questo, diciamo che lo andrei abbastanza a bocciare, 1,74, 80 di forza, insomma, molto, molto, molto strano come giocatore, il classico giocatore che non mi sembra né carne né pesce, onestamente, tra l'altro notate la facecam in tema Future Star, perché qua non ci facciamo mancare niente. Poi abbiamo questo Curtis Jones, che è un giocatore della Madonna, della Madonna, Gullit Gang per lui, e questo è un SBC, penso che costa abbastanza, Gullit Gang per questo Curtis Jones, velocità 83 e accelerazione 85, addirittura 91 di potenza tiro, 82 di finalizzazione per un centrocampista, passaggi che sono disumani, 96 il lungo, 88, 96 il corto, 88 il lungo, molto agile e reattivo, ottime le statistiche difensive, aggressività 91, 82 forza, questo vuol dire che quando vi si attacca all'uomo, non vi molla più, ed è anche 1,85 m. Piuttosto che la versione esterno, sinistro, dove c'è Manera, Ashford, che per me valgono 100x questo coso, io andrei a sbloccare tutta la vita sto Curtis Jones, nella versione centrocampista, devastante, devastante, secondo me attualmente in Premier League, e secondo solamente a Bruno Fernandes, quindi veramente una bella carta, sulla quale andrei a fare un pensierino. Infine abbiamo il buon Rainer, che ha una parte da 82, un obiettivo, e mano a mano potete notare come diventa sempre più cringe, ha questa prima fase di sgomento, della serie io che ci faccio qui, qui sta effettivamente capendo cosa è successo, e alla fine vi chiede, ditemelo voi, perché non ha ben realizzato, sembra un po' le fasi del bozzolo della farfalla, comunque questo è gratuito, è un 4-4, un metro e 85, 85 di forza, quindi non si gira più di tanto, anche se c'ha 93 di agilità, più che altro potreste utilizzarlo da esterno, è gratuito, quindi sapete io come la penso, ragazzi, le carte gratuite non sono mai da disdegnare, ecco, in questo senso, quindi può sempre tornare utile, se avete la sbatti di andarlo a sbloccare. Con un rapido colpo di frusta, passiamo invece su PS, dove abbiamo la nuova season, devo dire la gradisco, perché abbiamo questo tifo del leone, che mi fa impazzire, uno dei miei animali preferiti, che vorrei anche tatuarmi, molto molto figo, quindi vabbè, tra vari pacchetti, magia vecchio stile, ulteriori leoni, ulteriori leoni, palloni esotici, il lupo, che sicuramente si sbloccherà Danny, arriviamo al livello 15 della stagione, dove abbiamo questi tre giocatorini, e onestamente vi devo dire che, il migliore risulta sicuramente essere questo, Waldschmidt, non so se si pronuncia così, certo, Liganos, però, tra questi, è sicuramente il migliore, 1,81m, 4,4, sinistro, è veloce, potenza tiro e finalizzazione, tanta roba, passaggio corto ottimo, è lungo un po' meno, statistiche di agilità, equilibrio, eccetera, eccetera, fatte perfetto, e la forza, insomma, non lo appesantisce più di tanto, quindi, un giocatore che, insomma, è discreto, anche se comunque, più andiamo avanti, più ste carte sono abbastanza inutili, sicuramente, più utile del buon Senesi, che, insomma, è un DC argentino, del Feyenoord, quindi campionato olandese, di 1,85m, che, insomma, difficilmente vi andate a linkare, stessa cosa per Dembélé, che è un CC belga, sì, ma del campionato, insomma, cinese, 78 di accelerazione, di velocità, passaggi sì buoni, agilità non si gira, perché comunque parliamo di un giocatore di 1,85m, con 90 di forza, insomma, andrei più a sbloccare sto Waldschmidt, statistica alla mano, sembra, sembra il migliore, abbiamo lupi, galli, spazi, robottini, onde, leoni da guardia, giungle, mortali, cose, acuile, volanti, per poi arrivare al trentesimo livello, dove abbiamo questi ulteriori tre giocatori, abbiamo il buon Januzai, che è un 4-4, piede sinistro, 1,86m, anche in questo caso è una carta molto valida, perché è rapida, ha un buon tiro, ha degli ottimi passaggi, è agile, niente da dire, questo qua, per chi, a chi servisse un esterno di liga, è sicuramente, tanta, tanta roba, abbiamo poi addirittura Desciglio, che, anche qua, si va a inserire in un discorso più ampio, perché tutti e tre sti giocatori sono molto molto validi, perché Desciglio è un bel tersino, 4-4, italiano, quindi si può linkare in una serie A, e c'ha pure belle stats, perché è rapido, passaggi incredibili, è agile, statistiche difensive clamorose, forze 80, aggressività, addirittura 87, lo rendono veramente un bel giocatore, questo Desciglio, che mai avrei pensato, il discorso è che, sia Iannuze che Desciglio sono ottimi, ma tutto passa in secondo piano, davanti a questo Sessegnon, che è una carta veramente top, perché, è un 4-4, ok sinistro, siamo d'accordo, freddezza 94, velocissimo, potenza tiro 84, finalizzazione 90, passaggio corto top, il lungo un po' meno, super agile, super reattivo, tanta roba nei dribbling, questo qua da super sub, è quello che probabilmente, vi ritorna più utile, ecco, in tal senso, tra lui e Iannuze, se invece avete bisogno, di un terzino, che vi ripeto, italiano, per una serie A, per una ibrida, eccetera, questo Desciglio, c'ha proprio una bella carta, quindi, qui c'è più che altro, da valutare, quelle che sono le vostre, tra virgolette, esigenze, ma, sono tutti e tre giocatori, eccezionali, la mia preferenza, va in ordine di classifica, su Sessegnon, Desciglio, e poi Iannuze, e nulla raga, quindi, per quanto riguarda questo video, è tutto, siamo arrivati al termine, di quest'analisi, credo che settimana prossima, dovrebbero uscire gli swap, che non sono usciti oggi, vi invito a lasciare un like, come al solito, un commento, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate tutte le info, sulle live giornaliere, sulla piattaforma Viola, io vi auguro una buona serata, e vi saluto, ciao ragazzi!